buongiorno buonasera questo è il dilemma di quando si va sul web perché non c'è giorno non c'è sera ognuno è buon buona condizione nella quale in questo momento vi trovate non è male come auguri un po lungo buona condizione nella quale in questo momento vi provate che sia giorno che sia notte una volta sono stato in Mali in Mali bellissimo paese in particolare girando tutto in Mali nel giro più o meno turistico che ho fatto in quel paese bellissimo sono stato nella falesia dei Dogon i Dogon sono un popolo con una sua lingua una sua mitologia molto molto turisticizzato per cui spesso il Dogon magari è lì col telefonino e il televisore arriva il turista si mette in nudo e viene lì fuori e fa finta di essere selvatico ma in realtà il Dogon è già civilizzatissimo nella maggior parte dei casi quello che conserva il Dogon è una lingua molto ricca e alcune usanze impressionanti per esempio quella di salutarsi lungamente quindi quando due Dogon si incontrano non è che dicono ciao capo oppure dicono eh da noi si fa buongiorno tutto bene ciao 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 buongiorno oppure o là e là invece i Dogon quando si incontrano si parla e tu li senti proprio che si incrociano e anche allontanandosi continuano a salutarsi e mi diceva il tipo che è esperto di Dogon che che si dicono cose tipo buongiorno come stai tua figlia sta bene tuo figlio poi sei diplomato poi e continuano queste cose all'infinito è un saluto infinito perché ho detto questa cosa perché si partiva dall'inizio quando ho detto buona condizione nella quale vi trovate qualsiasi essa sia intanto vi faccio salutare dall'altro mio cane che si chiama Mu Mu in onore della caramella Mu ecco la Mu Mu dove sei? Saluta ciao Mu la Mu è bravissima è un canino bellissimo è l'unica femmina qua del circondario allora che bella questa chitarra questa è una silverton è una silverton è una chitarra da due lire da due dollari praticamente che però è diventata un po' il simbolo delle 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 chitarre dei bluesmen del del mississippi perché avevano delle chitarracce delle chitarracce sgraziate però questa loro mancanza di educazione chitarre maleducate ha un suo fascino bene questa è la zona delle... vi propongo oggi un'altra recensione questa volta di un libro italiano di un libro italiano di uno scrittore che non conoscevo e che per caso ho scoperto si chiama Sergio Garufi Sergio Garufi so veramente poco di lui so veramente molto poco di lui però ho letto il suo recente libro che mi è arrivato sotto mano per vie traverse e l'ho letto e mi è piaciuto parecchio e quindi ve lo consiglio ve lo consiglio è un bel romanzo italiano quest'anno sono usciti bei romanzi italiani Catozella è un bel romanzo italiano molto bello quello di Francesco Piccolo mi è piaciuto ho letto delle cose italiane che adesso con la mia memoria veramente schifosa non mi ricordo niente però me li ricordo il libro ti lascia qualcosa nel fisico non è che uno si deve ricordare io spesso dico che li ben letto questo e quest'anno e non me li ricordo ma l'ho letto per cui sono in qualche modo dentro di me e si sono posizionati da qualche parte a rendere la mia vita tutto sommato più interessante come sempre la lettura di un libro la visione di un bel film o un incontro con una persona i libri sono esseri in qualche modo viventi questo è un bel libro racconta la storia di un ragazzo non più tanto ragazzo uno più o meno della mia età che fa il traduttore di romanzi in particolare lui è un grande appassionato di Julio Cortazzar che è anche una mia passione una mia passione sfrenata devo dire ho per questo Julio Cortazzar che è un scrittore argentino vissuto quasi sempre a Parigi ma insomma uno scrittore sudamericano si può considerare decisamente uno scrittore sudamericano uno dei più grandi scrittori sudamericani e lui questo personaggio di questo libro il protagonista è innamorato di Cortazzar e sta traducendo una sua raccolta di lettere che scandiscono la narrazione per tutto il corso del romanzo di Garufi che si chiama Il superlativo di amare è un titolo molto pop ma mi sembra che funzioni questo ragazzo viene licenziato dalla sua casa editrice e si trova quindi senza lavoro si trova senza lavoro ha una vita sentimentalmente disordinata ma ricca ha una mamma che vive in Umbria che non sta molto bene in salute ha una pseudo amante ha un cane che adora e vado un po' a memoria quello che mi ricordo il libro ti cala in una interessante atmosfera in una nuvola sensoriale direi di esperienze che creano molta empatia con il lettore perlomeno come è successo così scorre via molto velocemente il libro pur essendo un bel romanzo di tante pagine non so quante pagine perché con questi cavolo di tablet non si sa mai quante cazzo di pagine c'è in un libro e questo è un problema di questi codi che bisogna abituare non si sa mai dice ho letto il 12% ma il 12% di che? il 36% di che? di quante pagine? non si sa è un bel libro con un linguaggio bello un linguaggio che mi piace insomma vedete che io che sono Lorenzo non sono un uomo colto sono anzi lungo parecchio lungo non sono quindi titolato a recensire libri per esempio non ho letto l'Ulisse di Joyce e su questo qui casca l'asino perché io ci ho provato ogni tanto l'ho iniziato ma non l'ho letto per cui chi non l'ha letto l'Ulisse di Joyce non è titolato a recensire romanzi pare no? così come chi non ha ascoltato che ne so nella musica non è così che la musica popolare è popolare quindi non è uno che diceva se non hai ascoltato tutti i dischi di Emerson, Lake & Palmer non sei titolato a parlare non è vero si può tranquillamente non aver ascoltato niente cominciare domattina ed essere autorevolissimi in piano sul fatto musicale anzi in musica quello che conta è l'imparare per cui nella musica una delle grosse dei problemi che sopraggiungono delle questioni che sopraggiungono a chi fa il mio mestiere è che a un certo punto quando tu hai imparato ad andare in bicicletta non puoi disimparare ad andare in bicicletta non puoi disimparare a nuotare non ci sono cazzi se tu hai imparato a nuotare poi ti buttano in acqua e tu sai nuotare non puoi far finta non puoi disimparare e quindi quell'energia dell'imparare una cosa spesso è quella cosa che si sente in grandi dischi d'esordio in grandi dischi d'esordio nelle prime parti delle carriere dei musicisti dei cantanti quindi si tratterebbe di provare a imparare sempre qualcosa a fare un disco per imparare a fare quel disco per sperimentare delle cose perché se no è un esercizio e quindi vabbè perché vi dico questo non lo so per scusarmi preventivamente con voi e con tutti e con tutti quelli che scusarvi con voi ma dirvi che queste sono chiacchierate amichevoli di come se un amico vi consiglia qualcosa di bello che ha fatto o che ha visto io stessa cosa potrei potrebbe succedere a me al contrario e per dire a tutti quelli che la rete è piena e popolata di quelli che un brutto nome è troll ma è un nome brutto perché i troll erano giganti paurosi invece il troll della rete è una pallina di cerume scagliata nell'infinito del web e quindi siccome quelli non aspettano altro che rompere i coglioni è il loro è il loro diciamo core business anche se poi spesso non c'è neanche un business in questa cosa qua c'è solo il core e quindi loro sono preventivamente vi dico qui cascate molto male perché non c'è non c'è non c'è una pezza d'appoggio proprio nel mio caso non ci sono pezze d'appoggio quello che vi racconto ve lo racconto perché ho voglia di raccontarvelo e così bene quindi Sergio Garufi il superlativo il superlativo di amare un ottimo libro che vi consiglio ciao spesso il Dogon magari è lì col telefonino e il televisore arriva il turista si mette in nudo e viene lì fuori e fa finta di essere selvatico ma in realtà il Dogon è già civilizzatissimo nella maggior parte dei casi alla prossima Grazie a tutti